we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e i ragazzi anche oggi non potevano mancare tutte le news riguardante il futuro di fortnite e soprattutto quello che accadrà in questa settimana perché avremo delle novità davvero curiose parleremo anche però di una collaborazione incredibile con una grande casa produttrice di videogiochi che non conoscete sicuramente prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e allora andiamo subito direttamente a parlare del primo argomento di oggi che non poteva che essere la conclusione del party royal della premiere ieri finalmente sono state regalate le ali al neon come si faceva per ottenerle davvero niente di strano bastava semplicemente loggare su fortnite ad alcuni ha funzionato ad alcune sono state date addirittura prima delle tre del mattino di sabato orario in cui iniziato il party royal chi non le avesse ricevuto il loggando su fortnite provi ad entrare sul party royal ho letto che comunque epigames se si è accorta che dei giocatori non hanno ricevuto le ali al neon non preoccupatevi perché fixeranno sicuramente questo problema mi immagino nella patch 12.60 e quindi anche voi le avrete devo dire per quanto mi riguarda che sono veramente molto carine un po troppo grandi però è davvero bellissimo l'effetto di reattività con la musica quindi grazie epigames per questo regalo veramente molto molto gradito e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi perché questa immagine ha scaturito il panico totale nei forum di fortnite nella community che non perde ovviamente nessun dettaglio stiamo guardando una parte del concerto di il primo che mi ricordo mai come si chiama dodi pron comunque il primo ragazzo che ha fatto il dj set in diretta e durante le animazioni è apparso quel coso rosa come vedete indicato dalla freccia che molti conosciamo e che forse anche tu conosci si tratta ragazzi di kirby ve lo faccio vedere meglio in quest'altra immagine che invece lo riprende proprio dalla parte frontale kirby è quello in centro con la facciata la faccia rosa per chi ancora lo stasse cercando kirby ragazzi è uno dei personaggi principali di nintendo quindi nintendo sappiamo che collabora con fortnite ad esempio ci sono stati c'è stato il set del dal da double ilix ci sono state due bundle della nintendo switch dedicate a fortnite e il fatto che sia stato inserito così dal nulla senza altri riferimenti un kirby potrebbe essere un indizio un piccolo easter egg per una futura collaborazione proprio di questo personaggio con fortnite per chi non avesse mai sentito parlare di kirby è praticamente una palla rosa con i piedi e una faccia la particolarità è che può estendersi aprendo la bocca e mangiando letteralmente gli avversari che gli danno dei poteri extra salta più in alto vola diventa invincibile arriva proprio dall'inizio degli albori di nintendo parliamo degli anni 80 e lo rivediamo anche negli ultimi suoi titoli so che esiste proprio una saga tuttora di kirby ma me lo ricordo anche in smash brawl se non ricordo male sempre di nintendo quindi tanta tanta roba questo easter egg e speriamo in una collaborazione con una major come nintendo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ve lo faccio vedere ma ragazzi prendetelo con i guanti visto che allora la persona che ha pubblicato questa immagine che so per farvi vedere è molto affidabile per quanto riguarda il campo dei leak però è un po' strana uno perché non mi convince molto il carattere però posso passarci sopra due perché è una cosa incredibile praticamente sembrerebbe che dalla prossima season quindi dalla stagione 3 di fortnite si avrà la possibilità di convertire un pass battaglia regalato in 950 v bucks trasformandolo in un gift token quindi se non vogliamo o se abbiamo già ricevuto no se abbiamo ricevuto il post battaglia non possiamo riceverlo il regalo ma se non lo vogliamo come regalo sarà possibile convertirlo appunto in moneta di gioco quindi in v bucks ripeto ci sono tante righe che però sembrano abbastanza confermare questa teoria abbiamo would you like to convert your battle gift token tu 950 v bucks il processo non è reversibile e sotto abbiamo delle altre stringhe di codice che dicono refund gift token title quindi fa parte del processo di restituzione convert battle pass gift token questa è la domanda per confermare oppure no e il refund gift token success text quindi in realtà ci sono delle delle stringhe che è un po difficile inventarsi da zero potrebbe essere una novità tanta roba perché chi non lo volesse ragazzi non so chi possa non volere il pass battaglia potrà convertirlo in 950 v bucks andiamo avanti invece parlando di una cosa molto importante per chi sta livellando il personaggio perché questa settimana anzi no mi sono perso un pezzo ragazzi questa è un'altra cosa interessante ve la ricordate questa immagine sono gli hoverboard della 14 giorni di fortnite quindi l'anno scorso in estate un evento che tutti si stanno aspettando anche per il periodo estivo del 2020 perché si parla degli hoverboard di fortnite perché c'è una bella teoria che sta girando in questi giorni appunto sui forum su trello su reddit dedicato a fortnite dove dicono visto che la mappa nella season 3 al 99 per cento confermato avere delle parti importanti sommerse dall'acqua allora sarebbe anche il caso di mettere come veicolo l'hoverboard ve lo ricordate lo skate che fluttuava e che appunto andava sull'acqua senza rallentare il personaggio sono d'accordo con quello che dice la community perché potrebbe avere un sacco senso e ovviamente loro dicono magari nella 14 giorni di fortnite che ovviamente verrà inclusa nella stagione 3 potrebbe esserci la possibilità di ottenere come dei pre come dei regali delle coperture aggiuntive per l'hoverboard quindi tanta tanta roba perché secondo me ha veramente senso come veicolo da essere inserito in quanto riguarda per quanto riguarda la mappa incrociamo le dita e speriamo e vi stavo dicendo ragazzi che questa è una settimana importante perché arriverà il secondo set da 30 sfide la continuazione delle sfide dominio come sappiamo vengono regalati un milione e 650 mila punti esperienza il che vorrebbe dire indicativamente che chi è a livello 200 adesso potrebbe fare una ventina di livelli chi è a livello 250 potrebbe farne una dozzina e mano a mano salendo si fanno meno livelli perché ovviamente viene richiesto più esperienza sono ovviamente delle missioni molto semplici solamente un pochettino lunghe ne stiamo vedendo alcuni eliminare dei giocatori allo shark ad esempio eliminare anche degli scagnozzi al rig oppure cercare scatole di munizioni a sabbia sudate collezionare del del legno alla foresta insomma se ne sono applicare shield a shantytown oppure al orchard ora devo un attimo tradurre alcune di queste location però ragazzi sono comunque tantissime per chi non le avesse perché le avesse già finite un ottimo modo per perdersi un pochettino via e non come si dice essere annoiati da quello che sta succedendo o da quello che c'è da fare nel battle royale e per chiudere ragazzi il video di oggi volevo parlarvi nuovamente e per l'ultima volta di dubs perché come vi avevo detto purtroppo il io dico purtroppo perché a me non è piaciuto quello che ho visto il ban che era stato promosso da epic games che doveva essere un permaban è stato convertito in un ban di 30 giorni e i fei hanno ovviamente sostenuto la tesi del loro giocatore che dice io in realtà continuavo nelle fncs all'andare nelle isolette vicino al pozzo perché così potevo buttarmi giù tnt tina prendere la scheda andare allo squalo e recuperare la roba nel cavo se waffle il tizio che è stato accusato insieme a lui ea cui hanno dato il ban di 30 giorni faceva il mio stesso giro io non ci posso fare niente alla fine lui non mi sparava è probabilmente perché non voleva fai tarmi non si sa è sempre un po così dubs sempre rimasto nel mirino di citto non citto sto un po timmando non sto un po timmando però ovviamente non possiamo farci niente lo rivedremo fra un mesetto nei competitive insomma ragazzi vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao